La città di Gorizia risente pienamente della crisi che ha colpito l'intero paese. È una città che si sta piegando su se stessa e la fascia di povertà si allarga ogni giorno di più. Vi sono file alle menze dei poveri, vi è tanta gente che bussa agli enti caritatevoli perché è una situazione inimmaginabile fino a qualche tempo fa. E sono non solo soltanto gli stranieri che bussano alle menze pubbliche, ma sono anche tanti, tantissimi italiani, goriziani che hanno difficoltà enormi, che hanno perso la casa, che non riescono più a stare al passo con quelle che sono le esigenze quotidiane della vita, la perdita del lavoro e tutte queste situazioni fanno sì che Gorizia stia diventando una città impoverita nel suo tessuto sociale. Tanto è vero che la popolazione diminuisce, diminuisce perché si fanno meno figli, perché c'è un'immigrazione di giovani e perché non c'è un ricambio generazionale. Senta, a noi quello che un po' preoccupa è pensare che con tutte le esigenze, con tutte le priorità che questa città dovrebbe avere. Infine finiamo ancora a parlare di sto benedetto ascensore per il castello come se fosse l'ascensore per la suite a 5 stelle. Ma certamente oggi un tipo di turismo richiede anche l'ascensore per un castello, perché è un turismo di anziani, perché chi si muove generalmente sono l'associazione degli anziani che vanno a visitare questa o quella città e Gorizia è una delle sedi predilette, quindi sarebbe opportuno. Però si trascina da tanti anni che veramente è venuta la nausea, forse quei soldi erano meglio investire nel sociale in azioni più produttive, perché il correre del tempo fa rievitare i prezzi e alla fine rende meno visibili quelli che possono essere i benefici di questa spesa che la gente non capisce. Ultima domanda perché molti se lo chiedono. Si parla tantissimo di Jack qui in questa città, però nonostante tutto in tutti questi anni dei risultati ne abbiamo visti veramente pochi, noi forse l'idea di cambiare proprio strada è rotta, perché Gorizia veramente sta andando, si parla di sistema portuale integrato, di rapporti, collaborazioni e in tutti i convegni non si parla mai per esempio dell'autoporto di Gorizia, cioè Gorizia non viene mai nominata. Allora questo Jack, a chi fa comodo? Ma sai, molte volte c'è la moda, la moda di riempirsi la bocca di paroloni, forse per non farsi capire, forse per confondere l'idea, la realtà è sotto gli occhi di tutto. Effettivamente Gorizia ha delle risorse come l'autoporto e quant'altro, lo sfruttamento che può essere fatto dell'aeroporto a Duca d'Aosta e quant'altro e quindi potrebbe attingere a queste che sono risorse naturali anziché risalire sugli specchi in cerchi di alclimie che forse non tutti capiscono.